Per Gubbio un ritorno, quello di Uto Ugi, che domenica 1 settembre alle ore 21 alla Chiesa di San Domenico si esibirà in quartetto in un appuntamento di grande prestigio promosso nell'ambito delle iniziative di omaggio all'Umbria, finanziato dalla Fondazione Cassa del Risparmio di Perugia e patrocinato, tra gli altri, dal Comune di Gubbio e dall'Unicef. La presentazione a Palazzo Pretorio con il sindaco Filippo Stirati e l'assessore Nello Derisi Fiorucci a fare gli onori di casa, a presentare il concerto Laura Musella di omaggio all'Umbria con Mauro Cesaretti della Fondazione Carisp, mentre la curia che mette a disposizione la Chiesa di San Domenico era rappresentata da Don Fausto Panfili e il parroco di San Domenico Don Giuliano Salciarini. Porto un grande ioninista, Uto Ugi, che manca da Gubbio, pensi, da circa vent'anni. E lui era molto contento di tornarci veramente, però senza l'orchestra, viene in quartetto. Viene in quartetto con una veste quindi piuttosto originale, quindi sarà accompagnato da altri tre musicisti, sempre di grande valore artistico, naturalmente. Sarà dedicato al patrono della città, a Sant'Ubaldo, questa è una cosa importantissima. Ed è sostenuto al principale sponsor della Fondazione Casa del Risparmio di Perugia. Io amo Gubbio, amo questa città e ogni anno porto qualche cosa a Gubbio, no? I giovani, soprattutto finora i giovani, anche perché il mio progetto come tema fondante ha la valorizzazione dei giovani musicisti di eccellenza. Torna a Gubbio una grande firma della musica a Uto Ugi, davvero per questa città che cosa rappresenta? Uto Ugi è un artista assoluto di livello e di fama mondiali, una grande personalità, credo che abbia dato un contributo anche alla musica del violino e al virtuosismo, al concertismo violinistico veramente di spessore eccezionale. Quindi per noi è un motivo di grande onore, di grande prestigio. Naturalmente immagino che ci sarà una grande partecipazione di pubblico perché il suo è un nome che richiama quasi a prescindere. Fa sempre dei programmi molto accattivanti, anche molto coinvolgenti, quindi direi che è una grande occasione musicale per la città, ma non solo direi per l'intera regione, quindi ancora una volta lo accoglieremo a braccia aperte. La fondazione è qualche anno che aiuta il progetto Maggia L'Umbria perché crede in questo progetto in quanto valorizza il territorio, valorizza le risorse della popolazione e promuove lo sviluppo turistico del territorio. Con il maestro Uto Ugi, il secondo violino Maris Regard, primo violino dell'orchestra da camera di Santa Cecilia, Luca Pincini al violoncello, solista che conta concerti in vari palcoscenici su scala internazionale e Marco Misciagna alla viola, solista in importanti orchestra sinfoniche nazionali ed estere. Il programma è un programma molto popolare, molto interessante, perché sarà eseguita la morte della fanciulla di Schubert e l'americano di Anton Vorjak. Anton Vorjak insegnò nel conservatore di New York per un paio di anni e anche perché devo dire che nella musica dell'americano ci sono echi anche della tradizione folkloristica americana, oltre che quella poema che è naturalmente congeniale al musicista. Ecco, questo volevo dire. Ingresso libero per questo concerto che, seppur in omaggio a Sant'Ubaldo, sceglie la chiesa di San Domenico per la sua ampiezza e la sua acustica. Per l'assessore alla cultura e turismo, Fiorucci, un'occasione importante per aumentare l'appil turistico della città di Gubbio, auspicando per avvenimenti come questi un'ampia promozione che riesca ad avere ricadute positive anche sulle presenze in città, negli alberghi come nelle altre strutture ricettive. Per Don Fausto Panfili un momento di valorizzazione di quello straordinario contenitore acustico che è la chiesa di San Domenico, concetto rilanciato da Don Giuliano Salciarini che ha annunciato da qui al prossimo gennaio altri tre appuntamenti musicali, il primo giovedì prossimo con Lorenzo Cannelli e la sua band, un esperimento, ha detto, pensato per i giovani, quindi ad ottobre la banda musicale delle Fiamme Gialle e il 4 gennaio un concerto d'organo che tornerà a far risuonare il Morettini fresco di restauro. Si pensava di farlo su Sant'Ubaldo, ma poi giustamente il maestro ha detto ma la sala è un po' più grande, e lo troviamo, non si preoccupi, veniamo a San Domenico in modo che ce la sarà benissimo, quindi ringraziamo veramente di questa presenza perché dà veramente spessore anche alle iniziative in preparazione alla traslazione, quindi abbiamo un calendario con iniziative proprio tra quelle di Renzi e questa di Ugi, abbiamo il club, possiamo dire, della bellezza musicale anche nella nostra zona. San Domenico è sufficientemente grande sicuramente per accogliere le tante persone che arriveranno. E' anche comodo per il parcheggio, per il modo logistico, perché bisogna pensare anche a questo, perché molte volte o la cattedrale o Sant'Ubaldo rimane un po' difficile a livello logistico.